Al Media Museum di Pescara da febbraio a giugno il corso di sceneggiature e drammaturgia in collaborazione con il Teatro Stabile d'Abruzzo, la Scuola Macondo, l'Università d'Annunzio, un corso aperto a tutti, con docenti d'eccezione. Ci si può informare attraverso i vari siti internet e chiamando direttamente le istituzioni interessate, Peppe Millanta della Scuola Macondo e Simone Cresticchi, direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo. La possibilità di portare al nostro territorio innanzitutto un'opportunità di crescita culturale per i ragazzi della nostra regione, perché si tratta di un percorso che precedentemente non c'era, nel senso che siamo riusciti a coinvolgere in un'unica rete enti e realtà come il Media Museum, l'Università, il Teatro Stabile, la Scuola Macondo, e quindi un'opportunità formativa per i ragazzi di confrontarsi con il mondo del cinema e del teatro attraverso un aspetto forse quello meno battuto che è quello del lato autoriale, del lato della scrittura. Tutto quello che viene prima, poi in realtà. Innanzitutto perché c'è un'urgenza oggi, credo che sia quella di cercare e trovare nuovi creatori di bellezza. Quindi il Teatro Stabile d'Abruzzo, da me rappresentato in quanto direttore, vuole essere al fianco di questa iniziativa e trasformare magari il mondo che vedono in qualcosa di bello, di positivo, che possa arricchire tutti. Bellissima questa frase, nuovi creatori di bellezza, perché l'arte è anche questo, ma può diventare anche un lavoro. Assolutamente. Io personalmente mi rendo conto che ha qualcosa di miracoloso il fatto che si possa campare, che si possa vivere con l'arte. Ancora oggi, dopo vent'anni, mi stupisco. Però sì, è possibile. È possibile soprattutto lavorare sul proprio talento, su quella luce che ci è stata donata. Ognuno di noi l'ha dentro di sé ed è sepolta dalla cenere. E quindi queste iniziative puntano a mettere in luce quello che è il dono che ognuno ha.